vai ci sono fai la intro faccio io? si è giorno? si bentornati su Tonescraft oggi siamo qui con Randy Renna e Darkim eccolo qua ciao a tutti bella la skin da guerriere è da sneak eh si sempre snake snake è quello che si mangia? no quello di Metal Gear Solid lo sneaker no no i sneaker sono le scarpe da ginnastica va bene allora ci hanno chiesto in tanti di registrare Tonescraft e quindi faremo questo video di un minuto che è già finito grazie per l'attenzione alla prossima ciao e quasi tutto allora Randy dimmi diamo la ferrovia per casa tua si però io non ho materiale è tutto tu allora guarda io voglio fare innanzitutto vedere che cavolo abbiamo combinato qua perché non c'è la resta e poi si prego favorisci i materiali allora aspetta un attimo io forse qualcosa in casa ce l'ho dovrei vedere sicuramente Darkim ti può far vedere dove abbiamo le cose intanto noi mettiamo la resta così come ci ha suggerito dei buoni amici allora io vado 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 allora io vado a prendere io vado a prendere del ferro che ho sicuramente in casa così ma vai in casa nostra che c'è tutto e vabbè ma ma sai che non ho mica tanto Darkim io dovrei avere almeno una ventina di pezzi noi abbiamo finito abbiamo finito l'oro oh cacchio altro che pinzi lacre chiacchiere no ce l'abbiamo l'oro che sto dicendo no scusa svarione stai dicendo puttanate va bene non dire queste volgarità per pescere ecco che poi c'è qualcuno che si offende Andrea eh ho deciso di fare un giro sul carrello per non sentirti ciao allora allora vedete questo è il collegamento per la casa di The House e funziona grazie perfetto allora where are you? sono arrivato adesso a casa ora prendiamo binari ma Darkim tu hai trovato un dungeon dove prendere binari gratis? eh aspetta che guardo nei waypoint allora ho 82 pezzi di ferro allora 8 pezzi di di oro e un po' di redstone 50 pezzi di redstone io ho una rovina a 173 metri bene e allora che facciamo? io andavo a shippare i binari eh però devo mettere giù la terra che mi son preso va bene noi abbiamo già 8 powered rail che non sono sufficienti però e 16 binari io piazzo questi binari qua io vi accompagno intanto e così vi do altri materiali e poi mi sono perso perché non c'ho la minimappa quindi io non so perché c'è un lettino nell'inventario ma e perché sei vagabondo anch'io non ho la minimappa non ho ho già dato minecraft e sono rimasto senza neanche la moda eh anche io che cosa brutta questo vuol dire che metterò i binari in maniera tradizionale nessun dungeon per me dove sei? ok in casa crea i binari ok ok ti porto ti porto il tutto grazie allora si ragazzi voi andate all'avventura e io li faccio in casa va bene allora non sarei tanto utile facciamo un po' di binari d'oro d'oro to' qui aspetta te li metto qua nella cesta legno 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 lei sono i diamanti legno ah dimenticavo che serve anche la redstone è qui è tutto qui benissimo grazie ah perfetto perfetto grazie mille allora andiamo dei miei andiamo andiamo hai il tuo ultra piccone fortuna per 10.000 con cui papa 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 sono siltaccio piccone efficiente siltaccio mi prendo un altro po' di pappa io to' Darkim tu che sei sempre molto efficiente si perché piove e perché non nevica comunque se mettete particelle minime si toglie il rumore della pioggia che è fastidiosissimo aspetta che ci siano dimenticati una cosa che è molto importante la coranza ah così sparisce il rumore della pioggia si fai opzioni video particelle grazie ho visto il tuo look quel furbasto che ha evitato la domanda molto simpatico tra l'altro scommetto che sono scattati i cori di risate si la domanda è ma da server si può impostare una differente la configurazione della pioggia non l'ho mai guardato in vita mia mi sembra un ottimo esercizio te lo faccio stiamo a me serve una spada curru curru guaglio io non ho più livelli perché Darkim ha ammazzato l'ultima volta c'era 21 ah facciamo un accordo tu ammazzami un'altra volta io non giocherò mai più con te va bene ti vengo a prendere a casa quando vuoi l'accordo è fatto lo sappilo no no l'hai fatto tu non è un le cose unilaterali non mi piacciono ah il castello degli eternal love mascinima ma così si stai zitto va i contratti si beh dobbiamo dirlo so che non è l'ambiente giusto però devo dire che abbiamo visto il contratto di mascinima ragazzi eh ragazzi cioè durata perpetua perpetua cioè banco pato eterno eh eh rescissione impossibile da parte del del partner mentre mascinima ogni volta che vuole quando vuole in 10 giorni ti manda a cagare bello così però eh vedi vedi ma è pazzesco ragazzi è pazzesco esatto esatto veramente è pazzesco va bene vado a posizionare binari come un campioncino beh è tutta colpa tua dai allora caro rendi si io faccio un collegamento mezzo storto panoramico si vabbè tanto l'importante è che sia collegato poi panoramico sotterraneo ma è uguale la faccia separata che scendi dal carrello e risali dai si si va bene facciamo una nuova partenza qui forza dai scusa com'è che si tirava via la pioggia che hai detto suono ehm esco opzioni postazioni video particelle metti minime c'è troppo un professionista ti dice anche la esc eh ma solo le ma tutte le particelle eh non lo so questo non lo so ma io volevo dire bla 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 water particelle no eh no eh devi toglierla vabbè poi al massimo la riabiliti quando sei senza sei senza vabbè andiamo in una caverna che mi ha scassato la scatola via dai vai è più simpatico una volta no ma quando è veramente odioso mamma mia è insopportabile indovina cosa ho oggi ho le tue cose ma c'è mal di testa ah e quando c'è mal di testa che è tipatico vabbè le due cose possono essere collegate però eh va bene scudei ah andiamo giù di qua ah proprio discesa verticale con la lo stile vertical limit mamma mia eh così si fa le cose le fai bene o non le fai come diceva qualche mio amico a no chiudi 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 cosa chiudi chiudi l'acqua mi stia dicendo om om metti sulle torce aspetta torce però scusami allora tu non vuoi fare il corso napoletano con me perché dici comunque non me la sento per vari motivi però devi spiegare il significato della parola om lo puoi spiegare con semplicità certo ma scusa ma ci aggiungiamo anche il resto poi aggiungiamo anche il resto no 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 non è non ha capito vedi che non ha capito la parola om non è om è merda om è niente sicchio sciesco è un'altra cosa mi spieghi è una rappresentazione della parola uomo in napoletano ma solitamente poi è collegata a qualche aggettivo molto non molto carino è enfatizzato esatto di solito è collegato ad un aggettivo non molto carino però significa uomo ecco fondamentalmente tu puoi dire a uno quando fa un po' troppo brillante tipo il maschio alfa in un locale lo guardi e dici om esatto esatto chi le om hai trovato hai trovato un'altra ravina il creeper creeper ma vaffanculo e qui finisce la dura la dura vita hai visto il creeper digli cosa ho fatto il creeper si si ci è andato bello contro lui tranquillo l'ho scuoiato si si fanno esplodere proprio va bene io magno bollo ore io raccolgo carbone no enderman mio non è morto descrivete ai nostri amici cosa succede perché chi vi guarda tramite il mio canale è inutile non sa cosa succede io sto raccogliendo carbone ho trovato una miniera mi sa una di quelle enormi allora siamo in una siamo in una rovina vieni qua è morto un enderman si esatto siamo in una rovina a cazzo a pilar del mare esatto ma dove sei renna sono caduto in un'altra parte della rovina sto minando rendi spiega tu perché a quanto pare darkim non è esattamente io sto minando carbone mi sono appena ritrovato ecco mi sono ritrovato uno scheletro un enderman davanti ma tra l'altro non vorrei sbagliarmi registrando con Camtasia si anche la luminosità è migliore non vorrei dire no quella è renderizzare con Camtasia che rende la luminosità migliore non registrare l'ho notato anche io automatici che in qualche modo migliorano anche quello si si l'ho notato anche io insomma ho trovato dei binari ottimo bravissimo ciao cazzo te lo fanno pagare un occhio della testa guardi 300 dollari è veramente eccessivo 300 dollari costa Camtasia io credo che sia eccessivo dovremmo fare tipo una versione youtuber magari con qualche funzione in meno in meno sì ne so 70 dollari ma per lo stesso prezzo non si compra Premiere di Adobe non sei molto informato no 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 ovviamente ce li hai tutti cosa no 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 Premiere no vabbè no comunque diciamo che Vegas versione Platinum che va benissimo per fare qualsiasi cosa costa 79 euro ah beh ed è la versione diciamo la versione limitata rispetto a quella Super Professional ma ci fai veramente tutto ma si alla fine nel senso il Pro serve proprio si deve fare montage ecco montaggio dei campioni esatto allora mettiamo delle torce lungo per qualcosa ferro che sennò facciamo la fine del gatto diamante ho trovato il diamante ma guardalo ma solo lui la cosa più più rara che ho trovato io è stato ferro per ora no io ho trovato Redstone diamante la bislazuli ma dove sei davanti a te davanti a me in continuazione tra l'altro ovviamente ovviamente se trovi qualcosa di prezioso si dimmelo che c'è il coso si intace e portiamo a casa quello che poi facciamo quel piccone di fortuna ok no io ho trovato per ora solo solo ferro quindi ecco la casa che renda perfetto sono qua sono qua dark che Grazie.